Non serve dirvi che le cose vanno male, tutti quanti sanno che vanno male. Abbiamo una crisi, molti non hanno un lavoro e chi ce l'ha vive con la paura di perderlo. Il potere d'acquisto del dollaro è zero, le banche stanno fallendo, i negozianti hanno il fucile nascosto sotto il banco, i teppisti scorazzano per le strade e non c'è nessuno che sappia cosa fare e non se ne vede alla fine. Sappiamo che l'aria ormai è irrespirabile e che il nostro cibo è immangiabile. Stiamo seduti a guardare la tv mentre il nostro telecronista locale ci dice che oggi ci sono stati 15 omicidi e 63 reati di violenza, come se tutto questo fosse normale. Sappiamo che le cose vanno male, più che male. È la follia, è come se tutto dovunque fosse impazzito così che noi non usciamo più. Ce ne stiamo in casa e lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo e diciamo soltanto almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti per piacere, lasciatemi il mio tostapale, la mia tv, la mia vecca bicicletta e io non dirò niente ma lasciatemi tranquillo. Beh, io non vi lascerò tranquilli, io voglio che voi vi incazziate, non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate, non voglio che scriviate al vostro senatore perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non so cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione e i russi e la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi, dovete dire sono un essere umano, porca puttana, la mia vita ha un valore. Quindi io voglio che ora voi vi alziate, voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie, voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Voglio che vi alziate in questo istante. Porre, resta su di lui. Seguitelo con la telecamera. Apritele, mettete fuori la testa e urlate, sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Le cose devono cambiare. E' trasmesso in diretta da quante stazioni? Sessanta e sette, comprese Louisville e Atlanta. Tutto questo non lo accetterò più. Allora penseremo cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione e la crisi energetica. Ma Cristo alzatevi dalle vostre sedie, andate alla finestra, mettete fuori la testa e ditelo, gridatelo. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Con chi stai parlando, Herb? Con la WCG, Atlanta. Stanno gridando ad Atlanta, Herb. Stanno gridando ad Atlanta, Ted. Ma prima vi dovete incazzare. Dovete dire, sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Stanno gridando a Baton Rouge. Alzatevi, alzatevi, alzatevi. Porca puttana, abbiamo fatto centro. Dormi qua. Andate tutti alla finestra, apritele, mettete fuori la testa e cominciate ad urlare, urlate, sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Alzatevi dalle vostre sedie, in questo istante andate alla finestra. Dove vai? Voglio vedere se qualcuno sta urlando. Finestra, apritela e mettete fuori la testa e urlate, continuate ad urlare. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Grazie a tutti!